è stata inaugurata a moglie nel pomeriggio di domenica 7 dicembre la nuova sede dell'edicola giornali ludovico la storia dell'edicola lunovico risale al 1948 quando antonio ludovico fuggito da parigi a soli 12 anni si ritirò poi agli esi nel giugno del 40 e dopo gli studi alla ricerca del lavoro decise di apprendere i primi elementi del mestiere del barbiere da ottorino cimarelli alla fine della guerra poi nel 1946 il giovane tonino si allontanò dagli esi per esigenze economiche con la sua bicicletta di seconda mano un materassino e ciò che aveva appreso andò dal fratello emanuele proprio a moglie allora un piccolo borgo qui inizia l'attività di barbiere sia nel negozio sia andando porta a porta tonino ricorda però il suo piccolo vizio di allora ogni giorno racconta quando ero agli esi mi andavo a comprare il giornale un po per le notizie sportive un po per essere aggiornato su ciò che accadeva in italia quando arrivai qui non sapevo né parlare né leggere e scrivere bene grazie alla vita di tutti i giorni al giornale che spesso compravo pian piano imparai l'italiano ecco quindi tanti ricordano antonio partire di buonora verso i esi in sella la sua bicicletta per comprare il quotidiano che poi lasciava anche in bottega per i suoi clienti e fu così che nacque l'edicola di moglie per lo stesso motivo per cui fu inventata la stampa per il desiderio di sapere e conoscere ciò che ci circonda oggi l'attività dell'edicola è portata avanti dalla figlia di antonio ludovico detto tonì da daniela insieme ai suoi figli in particolare insieme a beatrice a gabriele prosperi così daniela dice spero di essere in grado di portare avanti un'attività così grande ma di una cosa siamo certi l'edicola di tonino avrà vita molto lunga e fornirà sempre la gentilezza dei vecchi tempi l'affidabilità di una lunga esperienza e la genuinità che per 60 anni quella piccola casa dei giornali ha dato al proprio paese